Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Inutile dirvi che cosa andrete a guardare perché avete già letto il titolo. Quindi prima di catapultarci in palestra, due cose molto molto veloci. La prima, iscrivetevi al canale, condividete il video e fatemi conoscere dai vostri amici. Seconda cosa, volevo ringraziare tutti coloro che nei video precedenti hanno avuto un commento per me, anche chi mi ha criticato, perché la critica costruttiva serve soltanto a farmi crescere. Quindi grazie a tutti, ora scappiamo in palestra, ore 13.35 e ci vediamo dentro. A dopo. I feel paralyzed Ciao! 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 Mancano gli ultimi due esercizi In totali 10 serie e ci andiamo a prendere il posto sul tappeto Una bella mezz'ora in comodità Ragazzi allenamento è finito Doccia fatta, secondo taste test Proteine, gusto mocha Vado a shakerare, le assaggio e vi dico Come sono, speriamo buone perché l'ultima volta era 5 e mezzo gusto tiramisu Gusto mocha Sarò di palato difficile A me mi fa schifo pure questo Quindi anche qui voto 5 Mi spiace Ragazzi questo video finisce qui Io spero che vi sia piaciuto Che non vi abbia annoiato Che aggiungere con un saluto Angolo napoletano Never give up E' stato buono Grazie a tutti